Operazione del CITES del Corpo Forestale dello Stato che ha sequestrato un ingente quantitativo di un prodotto spacciato per caviale commercializzato attraverso internet. Ricordiamo che il CITES è specializzato nella tutela di specie animali e vegetali in via di estinzione tutelate dalla Convenzione di Washington. Ascoltiamo il responsabile CITES, Luca Brugnola. In questo contesto lo storione è proprio una di queste specie minacciate di estinzione e quindi anche i prodotti e i derivati dello storione come il caviale sono prodotti che noi attenzioniamo comunemente. Questo prodotto veniva importato in Italia dalla Moldavia attraverso una ditta di San Salvo. Ad insospettire è stato innanzitutto il prezzo molto basso di vendita, circa 45 euro detto, contro i 600-650 di un vero caviale. Esatto e proprio questo è stato il campanello di allarme che ha fatto poi scattare le indagini, in particolare il prezzo molto basso del prodotto e il fatto che dalla Confederazione russa nel 2009 non sono state assegnate quote di esportazione di caviale e quindi il possibile caviale, eventuale caviale importato sarebbe stato comunque di origine illegale. Ma se non si tratta di uova di storione, come è stato allora prodotto questo pseudo caviale russo? Come spiega il comandante provinciale del Corpo forestale dello Stato Guido Conti, sono in corso degli accertamenti tecnico-scientifici? Molti sono gli elementi che portano a credere che tutto siano tranne che caviale, caviale del Volga. Quindi c'è anche un motivo di preoccupazione per la salute, l'igiene? No, di solito sono succedani dello stesso tipo, uova per uova, ma non quelle uova. Ma non in questo caso? Questo ce lo devono ancora dire i laboratori. Qualche sospetto? Sospetti.